Allora, lasciatemi dire che è veramente un grande piacere essere qui con Carmela Sorella perché insomma io non sono proprio giovanissima e quindi sono cresciuta un po' con l'immaginario del giornalismo di Carmela Sorella e perciò è veramente un piacere poterlo ospitare. Per me è anche un piacere essere qui con voi ed essere con chi ci sta ascoltando in questo momento. In realtà non parleremo, anzi parleremo anche di giornalismo perché non possiamo non farlo ma parliamo in primis e soprattutto di un bel romanzo, il primo romanzo dal punto di vista diciamo di narrativa ecco. Sì, non è il primo libro ovviamente ma è il primo romanzo perché ho valutato che per attraversare dei temi del nostro tempo, anche temi diciamo che fanno discutere, che trovano un'opinione pubblica divisa, che si prestano a manipolazioni, a strumentalizzazioni e quant'altro, non bastasse un saggio. In passato lo avrei fatto, mi sono resa conto invece che è molto più diretta e più forte la storia, la storia attraverso le storie e così per scrivere, questo che è un libro che tratta molto di migrazione diciamo un po' al centro ma non è un libro sulle migrazioni, è un libro che racconta il nostro tempo purtroppo che sta vivendo tante contraddizioni, sta perdendo un libro di umanità diciamo a un'informazione, ecco io adesso non uso più questa parola informazione perché informare significa far capire, far conoscere, è una fase di notizie, di notizie a grappolo, di notizie che arrivano da tutte le parti, che bombardano in continuazione chi ascolta e chi naturalmente legge senza dare informazione, quindi io ho scelto questa forma del romanzo, prima perché mi è piaciuto, mi sono divertita molto, adesso se lo racconti sì, essendo anche una persona che è sempre stata un'iperlettrice e quindi con molte timidezze nei confronti del romanzo, saggi sì, racconti sì, ma il romanzo mi faceva tremare le vene i polsi e quindi invece in questo caso ho ritenuto che fosse assolutamente la forma giusta per narrare trovando uno spazio di libertà. Iniziamo dal titolo, Vera e gli schiavi del terzo millennio, questo è il sottotitolo, intanto la casa editrice Marietti 1820 e Vera è la protagonista, anche se non è l'unica voce di questo romanzo. No, vogliamo descrivere anche la copertina? Lo facciamo subito? Lo facciamo come vuoi. Va bene, va bene, facciamolo subito, cambiamo un po' gli schemi. Così intanto lo vedono questo lì. E allora sì, la descrizione della copertina. Allora, questa copertina diciamo fa vedere un cielo pieno di nuvole, un mare agitato ma non in tempesta, c'è una rete, c'è un blocco, c'è qualcosa che ferma l'orizzonte e c'è una strana figura femminile con i capelli un po' scomposti, non è una persona che tenga tanto a sé, non c'entra niente col romanzo, ma è una figura di donna perché sono tante le donne di questo romanzo e quindi si è voluto scegliere una figura che in qualche modo desse anche il segno non tanto dell'impotenza quanto del fatto di ritrovarsi dinanzi a un problema immenso che richiede regole, che richiede attenzione, che richiede conoscenza. Quindi questo cielo scuro, questo mare agitato, questa rete, questa figura di donna con i capelli al vento, non leccata, i capelli sono anche scomposti e spettinata, poi c'è questo nome messo grande, io l'avrei voluto più piccolo, confesso, perché credo che i libri devono avere soprattutto il titolo in evidenza, ma poi ci sono le regole del marketing, mi sono dovuta rassegnare, quindi c'è il mio nome in bianco che si vede bene e poi c'è questa parola vera, vera è il nome della protagonista, un attivista per i diritti umani e poi diciamo più piccolo è scritto e gli schiavi del terzo millennio. Il titolo però? Il titolo è tutto mio, ovviamente. Perché le regole del marketing spesso impongono anche il titolo. Sì, ci hanno provato, devo dire la verità, però io sono una che insomma sono convinta di una cosa la difende con le unghie e i denti. E quindi insomma questo è importante perché quando un autore scrive un romanzo e hai già in testa, che poi spesso e volentieri capita subito di avere in testa il titolo della storia, insomma poi vederselo cambiare fa sempre un po' fastidio. Allora, gli schiavi del terzo millennio insomma è un sottotitolo importante anche perché in questo sottotitolo ci sono i due temi un po' forti del romanzo. Uno è quello del mondo digitale, che è un mondo che come giustamente accennavi è quello che un po' ci sta insegnando insomma anche la difficoltà del nostro mestiere, perché bisogna verificare continuamente anche le notizie, le fonti, cosa è vera e cosa no e come darle, come filtrarle. E poi c'è naturalmente gli schiavi del terzo millennio che insomma adesso per chiunque si trovi a fare questo mestiere, rassegna stampa quotidiana, è un tema ai noi che sembra diventato insormontabile ma in effetti è da tanto tempo che c'è forse... Questa è la storia degli uomini, le migrazioni attengono come si è costituita l'umanità nella sua diversificazione in tutti i continenti. Quindi rispetto a un fenomeno strutturale, quindi che sia chiaro non è un'emergenza, non è un'invasione, non è niente, si usa un lessico completamente sbagliato, rispetto a questa situazione si è preferito scivolare purtroppo nella propaganda, nel qualunquismo e soprattutto la cosa grave che io trovo, vedi, è il fatto che dalla situazione che stiamo vivendo emerge la disumanità, le disumanità. Prima c'era solo indifferenza rispetto a tante notizie, ci si girava dall'altra parte, non mi riguarda. Adesso invece le si guarda e si resta indifferenti, che è una cosa ben peggiore. Cioè è paradossale come vedere migliaia e migliaia di persone a partire dai bambini, passando alle donne, arrivando appunto agli uomini che arrivano da tanti paesi e che vengono semplicemente indicati come africani, asiatici, sudamericani. È la stessa cosa come se in Europa noi dicessimo europei e basta. Noi ci teniamo ad essere italiani, come i francesi, la miseria sicuramente e così via. Qui c'è questa semplificazione incredibile. Non so se voi sappiate che quando arrivano non li chiamano per nome, non li registrano per nome, ma con un numero. Pensate che salto all'indietro da paura. Siamo ritornati alle persone segnate da un numero. Ma se pensiamo che insomma alle stragi recenti, viene in mente subito quella di Cutro di questa estate, erano numeri e si parlava di quanti fossero stati ripescati. di quanti no, senza dare un minimo. Chi è sul fronte, e io ho fatto l'incorrispondenza di guerra, quindi purtroppo di atrocità ne ho viste tante, molte di queste mi sono rimaste addosso, dentro e così via. Chi è sul fronte a tutta questa propaganda, perché di propaganda che si tratta, per esempio giovedì l'altro, non sapete quante persone c'erano a Lampedusa? Zero. Che vuol dire? Vuol dire che Lampedusa è un posto di primo prodo. Il Padre Eterno ce l'ha messo lì e quindi chi viene dalle rotte dell'Africa lo trova priva di altre terre, come trova le coste balcaniche e via discorrendo se viene da altre latitudini, o trova quelle spagnole se viene dalle altre latitudini ancora. Quindi Lampedusa è logico che non è che è un posto quando si dice al collasso, sovraffollamento, quello è un posto dove si arriva, si fa un primo screening e dopodiché vengono spediti di qua, di là e così via. E chi è al fronte appunto, gli operatori, ma le stesse autorità, penso al questore di Lampedusa, che poi è il questore di Agrigento, piuttosto che al prefetto, piuttosto che ai magistrati che operano in quelle aree, ci sono delle procedure che vengono osservate. Ecco il problema è che sulle migrazioni non vengono osservate abbastanza. Per cui dopo che sono arrivati e quindi quando vengono salvati, perché appunto come sappiamo troppe volte non accade, e poi la seconda accoglienza che fine fa? Tutti i soldi che dallo Stato che fine fanno? In qualità che finiscono? Non certo nelle loro. E purtroppo, e io di questo parlo nel libro, perché credo che appunto la narrazione, come è sempre stato nella storia della letteratura, serve a capire meglio il proprio tempo. Io di questo parlo, parlo della truffa delle migrazioni, perché il problema è che non si risolve questo problema, non perché non ci siano le soluzioni, ma perché ci sono troppi soldi. Quando ci sono troppi soldi, evidentemente si preferisce lasciare tutto com'è. Non vale solo per l'Italia, vale per l'Europa che non ha un progetto sulle migrazioni, vale per le grandi organizzazioni internazionali che anche loro ricevono soldi per le migrazioni. Pensiamo ai campi profughi che ci sono in Turchia, per esempio, li vogliamo nominare? Io anni fa ci sono stata. Vi assicuro, è qualcosa che veramente offende qualsiasi persona che crede e ritiene a giusto titolo di appartenere al genere umano. Non c'è nessuno che ha capito come si può gestire l'accoglienza o un modello di paese, no? Capita per l'economia, capita per l'istruzione, capita per la sanità, di avere dei modelli di riferimento virtuosi. Per l'immigrazione questo non c'è. Beh, allora, perché si è costruita tutta questa propaganda sui clandestini? Allora, il clandestino chi è? Chi arriva di nascosto? Oppure chi arriva senza documenti? In moltissimi casi, non tutti, questi documenti non ci sono, perché sono stati che sono saltati, stati falliti. Io sono stata in tanti paesi africani, tanti paesi del medio, del vicino oriente. Non c'è che vado in ufficio e mi faccio dare la copia del passaporto, non è praticabile, non solo, ma ci rendiamo conto di che cosa significa non avere un documento. Noi quando perdiamo una carta d'identità impazziamo, perché nessuno ci riconosce. Come ti chiami? Mi chiamo Carmene. E chi lo dice? Te lo dico io. Non è vero. Allora, i documenti siamo noi. Se non ce li danno, già ci tolgono la nostra umanità. E non glieli danno. Poi, naturalmente, c'è la patologia, per cui c'è tanta gente che su questo, naturalmente, ci gioca, perché dichiara di arrivare da un posto non è vero e così via discorrendo. Però anche lì, quando si dice paesi sicuri di provenienza, paesi non sicuri. Per esempio, la Tunisia è dichiarato paese sicuro. Ma lo si sa che Sayed è un dittatore? Lo si sa che ha abolito qualsiasi dissenso nel suo paese? Che la piccola dolce Tunisia che abbiamo conosciuto anni addietro, dove ci furono le primavere arabe, dove c'erano cento giornali, dove le persone parlavano per la strada, che era un posto meraviglioso, è diventato un luogo di silenzi, perché altrimenti si finisce in un carcere nel deserto e si butta la chiave. Allora, come si fa a definire sicuro un paese come quello? È la Siria. E vogliamo continuare. C'è la realtà che noi abbiamo completamente destabilizzato delle aree che non avevano forme democratiche, ma avevano governi riconosciuti dai rispettivi paesi, sostituendoli con o governi fantoccio o realtà nelle quali purtroppo si va verso autocrazie feroci. Vedete quello che adesso sta succedendo nell'area subsahariana, nel Mali, nel Niger e quant'altro. Anche lì è arrivato al capolinea una forma di colonizzazione, c'è stata una decolonizzazione imperfetta. C'è stato un sacco di colpi di estate in Africa, in un periodo pieno. E poi, voglio dire, quanti soldi abbiamo dato all'Africa? Se quei soldi fossero stati impiegati come andavano impiegati, ma lì ci sarebbero attività, fiorfiore di attività, perché non è vero che sono queste gente che non voglia di lavorare, che gira per strada col telefonino. Oramai il telefonino ce l'ha un bambino di un anno, quindi voglio dire ci sta che ce l'abbiano anche loro. Il problema è che lì ci sono braccia e ci sono anche cervelli, cervelli e cuori. Io sono stata in paesi dove ho visto persone che lavoravano fino a sfinirsi. E lo facevano però non soltanto con i muscoli, lo facevano anche cercando di capire come potevano migliorare quel lavoro, come si poteva andare avanti con una fabbrica, come si poteva andare avanti con una scuola. Ecco, questa è tutta una narrativa che non c'è. Dal proposito, c'è un'altra narrativa sull'immigrazione che è pochissimo battuta, che noi abbiamo raccontato in parte, che è quella proprio del fenomeno della migrazione per l'impoverimento della terra e quindi proprio per la mancanza della possibilità di lavorare nella terra dove vivono e crescono, quindi con una grossissima anche sofferenza di dover abbandonare i luoghi dove si è nati e si è cresciuti, ma per esigenze dovute al clima. Certo, il cambiamento climatico, la desertificazione, i pascoli che si seccano. E l'Africa è in uno stato veramente insomma disperato da questo punto di vista. Ma l'Africa non è disperata, l'Africa è un paese che resta meraviglioso. Io i sorrisi che ho trovato in Africa, giuro, fatico a trovarli da queste parti, perché lì hanno imparato a fare con quello che c'è, che è una condizione purtroppo dettata dalla necessità, ma che vede, ecco per esempio una cosa che qui abbiamo perduto, tanta solidarietà vera. Quando uno cade, ci si ferma e gli si dà una mano. È qualcosa di fondamentale. I figli sono i figli di tutti. Non si abbandonano. C'è sicuramente, ci sono dei limiti legati alle realtà claniche, lo sappiamo perfettamente, però c'è la musica, che è una musica meravigliosa, una musica che sgorga naturale, facile, da tutte le parti. Sono popoli con tanta gioia di vivere. E noi, quando arrivano qua, aggiungiamo il calvario che hanno vissuto, il calvario che li aspetta e che costruiamo noi. I protagonisti di questa storia, abbiamo detto prima, è comunque vera che è una donna, poi c'è un'altra donna e questo anche è molto interessante, proprio per avere due punti di vista diversi e anche due confronti generazionali diversi. però ci sono solo donne, ci sono anche uomini. Ma naturale, c'è un magistrato, c'è un giornalista, c'è un medico, c'è un colonnello. Io non sono assolutamente per questa lettura o scrittura femminista, assolutamente no. Però due donne che, insomma, vera e nello specifico, che in qualche modo diventano loro, le narratrici di questa storia, con due punti diversi e due generazioni diverse. Esatto, le generazioni. Ecco, io ho voluto fare un romanzo polifonico, perché nel mio mestiere, nel nostro mestiere, bisogna sentire tante voci, no? E bisogna metterle al confronto. E quindi, naturalmente, le voci cambiano a seconda di quello del background, a seconda di quella, appunto, che è l'età, il mondo di riferimento. Quindi, vera che è un attivista per i diritti umani, che ha vissuto la sua vita nelle piazze, che ha preso le botte, che aveva un gruppo meraviglioso con cui condivideva questo impegno a offrire consulenza gratuita a chi non potesse permettersi a tantissime latitudini, è affiancata dalla sua assistente segretaria amica, che nel corso della storia diventa segretaria assistente amica, poi diventa amica assistente segretaria. Quindi è un rapporto tra due donne di due generazioni diverse, che si conoscono, si incontrano, che scoprono che possono scambiarsi un testimone. Vedi, oggi manca questo passaggio di testimone da una generazione all'altra. Ed è un fatto, anche questo è una perdita secca. In questo modo io ho voluto indicare proprio come non si debba assolutamente sottovalutare quello che può essere un punto di vista e un parere che nascono, se vuoi, da una persona che ne sa meno di te, che ha studiato meno di te, che ha meno esperienza di te, ma che sicuramente è più fresca di te. E ti offre quella realtà rispetto alla quale tu sei un pochino claudicante. Non sono le uniche due donne, perché poi c'è un'informatica geniale, straordinaria, che risolve tante cose ed è talmente appagata da questo suo lavoro che non lo fa per denaro, anzi, rispetto alle società che naturalmente, le società informatiche, che è diventato il business del nostro tempo, lei lo fa per il gusto e il piacere, per cui riesce ad arrivare priva della polizia, riesce ad arrivare priva di società informatica, è geniale. E poi c'è una strana figura che si chiama Cleo, quindi Vera, l'assistente che si chiama Mariella, l'informatica che si chiama Anda, e poi questa figura che si chiama Cleo, che è una goccia d'acqua sul piano fisico della protagonista, ma è esattamente il suo opposto. È come se Vera si specchiasse in uno specchio, specchiasse appunto e vedesse un'altra come lei, ma che è altro da sé. Perché questo? Perché in fondo noi viviamo in un tempo di maschere. Viviamo in un tempo di maschere un po' tutti, sia in buona, sia in cattiva fede, la mattina oltre a metterci, diciamo, a darci una pettinata, a indossare una camicia e così via, noi ci indossiamo la maschera. Ecco, Vera è di nome di fatto una persona Vera, e però indubbiamente anche a lei hanno messo un'immagine addosso, che è quella appunto di un'attivista, di una che scassa, una che rompe le scatole, insomma. E quindi questa Cleo, invece, è esattamente l'opposto, ovvero una persona che vive l'oggi, vive il subito, vive il piacere, non vuole l'impegno, si sottrae ogni responsabilità. E quindi è una persona che... Una parte leggera. Sì, assolutamente. Di prima faccia, nel momento in cui Vera la incontra, diceva questa che vuole da me, sì, mi somiglia come una goccia d'acqua, saremo state separate dalla nascita, ma io non centro niente. E poi scopre che lei esprime tutto quello che lei non ha saputo vivere. Nella vita bisogna avere anche un po' di leggerezza, prendersi sul serio per carità, darsi degli obiettivi per carità, il senso del dovere per carità, ma la leggerezza è fondamentale, che è quella di kundera, quella di guardare alla vita sapendo cogliere l'attimo, il momento, quel sorriso che risolve più di una posizione dura e via discorrendo. Quindi io ho voluto anche giocare sul doppio, perché questo è un altro aspetto che ci riguarda, che riguarda la vita di ciascuno di noi. Poi ci sono tanti sentimenti, perché Vera è in un momento critico della sua esistenza, viene da un matrimonio fallito e si rimette in discussione, perché che si fa quando si è a una certa età, un matrimonio alle spalle che non ha funzionato, il gruppo di partenza che si è rotto, il nuovo gruppo che lei dirige che invece è infiltrato dal malaffare e lei rimane stordita dinanzi a questa situazione e poi fa quello che sa fare, combatte. Come è stato passare alla scrittura narrativa? Adesso andiamo un po' più nel dettaglio diciamo stilistico, un giornalista deve mantenere un tipo di scrittura, di staccata o comunque molto legata all'analisi, ai fatti, alla cronaca. Qui ci si è divertiti un po' di più senz'altro, però strutturare un libro soprattutto con più punti di vista, dando stili diversi, quindi anche alla seconda del personaggio è sicuramente un impegno diverso. Ecco, quanto tempo ci ha voluto per pensare questa storia e renderla reale sulla carta e qual è stata la cosa che ti ha fatto faticare di più? Ma guarda, quando l'ho fatto vedere a un mio amico che è un direttore editoriale di una casa editrice che poi non l'ha stampato, perché per un motivo semplice mi ha detto Carmen, questo libro è troppo forte per noi. Che vuol dire troppo forte? Vuol dire che si affrontano delle tematiche e si affrontano delle tematiche forti, io non vedo perché la narrativa deve essere solo fantasia. C'è tanta fantasia, ma c'è anche il nostro tempo. Direi che è un libro sul nostro tempo, prima di tutto, che non sull'emigrazione. E lui mi ha detto, hai voluto fare un libro ambizioso. Io non me ne sono resa conto e non mi ha sicuramente spinto l'ambizione, però nel momento in cui ho cominciato a scriverlo mi sono innanzitutto appoggiata alla scrittura, a quello che nel mio mestiere ho potuto fare sempre fino a un certo punto, perché il gusto dell'aggettivo giusto, la frase che cerca, diciamo, il piacere dello sguardo, perché leggere significa anche vedere quello che stai scrivendo. Io ho scritto quasi... è un libro che si vede. Infatti nella presentazione c'è scritto un libro che si segue con i cinque sensi. Ci sono gli odori, ci sono i profumi, c'è la natura, c'è questo rapporto con la musica fondamentale. Io ho studiato musica e ho voluto che Verra, diciamo, potesse trasferire anche il senso di quella musica, che sicuramente oggi è meno di moda come possa essere la lirica, la musica classica e quant'altro. La lirica, la nostra Cuccini, che abbiamo citato diverse volte. Tra l'altro Cuccini, un uomo moderno, perché Madame Butterfly, di cui viene raccontata un po' l'ambiente, la storia e quant'altro, lui faceva una critica della società del suo tempo, perché Cuccini, esaltando la figura della piccola geisha, Chochosan, praticamente dava il segno di come questo presunto primato dell'Occidente andava dimostrato, perché non era così per opera dello Spirito Santo. E quindi un uomo avanti, un uomo che amava le donne, un uomo che scrive delle arie meravigliose. Però la segretaria assistente, eccetera, gli piace il funky, c'è poco da fare, non solo, ma, diciamo, i suoi interessi, i suoi, sono di altro segno, quindi c'è anche quell'altra musica, e poi c'è il jazz, che è una cosa meravigliosa, che credo accomuni un po' tutti quanti. E quindi questo bisogno di mettere anche delle note in un testo scritto sicuramente non è frequente, però io ho visto che ci poteva stare. Quindi il lavoro è stato impegnativo. Io, che normalmente scrivevo cose che andavano bene dopo due giorni, e quindi con una velocità da urlo, ho impiegato nove mesi a scrivere questo libro. Con la storia già in testa, con una storia che ha meditato ed è cresciuta negli anni? No, la storia è venuta fuori a un certo punto, per cui io ho detto sì, mi devo occupare di questa cosa, in questo momento non posso fare un reportage per raccontare come stanno le cose, non ho una trasmissione dove lo posso fare, non ho uno spazio di informazione, non un notiziario dove altrettanto potrei farlo, e quindi che faccio? Scrivo un libro. Ecco, quindi io ho scritto questo libro perché avevo proprio bisogno di affrontare questi temi, che sono quello legato alla mobilità. Ecco, migrazione oramai la trovo una parolaccia, non mi piace più usare questa parola di migrante, perché sembra una massa informe, anche perché poi, parliamoci chiaro, noi abbiamo scontato con la guerra in Ucraina questa migrazione immensa degli ucraini. Sono stati circa 9 milioni di ucraini sparsi in Europa in tre mesi, con permessi di soggiorno, con permessi di lavoro. Qui stiamo parlando di numeri che sono intorno ai 100 mila anni. Sì, quindi voglio dire, il discorso è che lì la soluzione si è trovata, non solo perché biondi con gli occhi azzurri e quant'altro, ma anche per altre ragioni e ragioni politiche. Negli altri casi non si trovano. E quindi questo libro io l'ho voluto proprio fortissimamente. La storia, poi, devo dire, che è andata per i fatti suoi. È così, di solito. Succede così. Quindi avevo scritto un soggetto, avevo anche ragionato. C'è pure di solito un personaggio, però, che non nasce nelle idee, come quello che poi invece appunto fa da solo. C'è nel tuo libro un personaggio che è venuto fuori strada facendo, doveva avere un altro percorso, invece poi si è preso una fetta di storia diversa da come l'avevi pianificata. Ma ti devo dire che, per esempio, il magistrato, io ho una formazione giuridica. Quindi nei confronti del diritto, della legge, ho una sensibilità particolare, perché è stata la mia formazione. E quindi non volevo dare grande risalto a questo magistrato. Invece poi gliel'ho dato perché ho dipinto qualcosa che anche lì non è frequentissimo. Purtroppo nel mestiere del giornalista, nel mestiere del magistrato, e in tanti altri mestieri è entrata una gamba tesa la politica. E quindi quando un magistrato fa una cosa normale, che è il suo lavoro, dice, ah, è contro di noi. Che vuol dire? Non vuol dire niente. C'è la legge. O si applica o non si applica. Un provvedimento o è legittimo o non è legittimo. Cioè siamo in questa situazione. E questo bisognerebbe che, perché se salta questo balance, questo equilibrio di poteri, noi imbocchiamo strade che non ci piacciono. E già le stiamo imboccando. Non mi riferisco a questo governo. Mi riferisco, appunto, ecco, per esempio, alla disumanità che riguarda le migrazioni. Dove noi abbiamo deumanizzato questi poveri disgraziati che sono siriani, che sono tunisini, che sono algerini, che sono persone del Sahel e via discorrendo. Sono persone che vengono ciascuno da un mondo. Ci sono 54 paesi in Africa e questo non lo sa nessuno. Io di 54 ce ne sono state in 45. Per cui me la sono girata in largo e in lungo. E devo dire che sono, come tutti coloro che hanno conosciuto l'Africa più volte nel tempo, rimango assolutamente innamorata di quel continente. Ecco anche questo. Mal d'Africa, no? Sì, il famoso Mal d'Africa, che però, praticamente una volta dicevano che era dovuto ai boys e la gogliesse, quindi diciamo a un personale di servizio, a una vita comoda, no. Il Mal d'Africa è quello che ti fa vedere questi orizzonti sconfinati, queste potenzialità infinite, questo popolo giovanissimo rispetto ai nostri popoli vecchi, questi bambini che giocano con una palla di pezza e sono i bambini più felici del mondo, che si bagnano nudi nel mare e hanno in quel momento il mare non in tasca, perché non hanno manco una tasca, ma ce l'hanno negli occhi. Ecco, questo è il punto. Il punto è questo grande, meraviglioso paese, purtroppo terra di interessi smisurati. Prima c'erano soprattutto quelli europei, poi sono arrivati quelli cinesi, poi sono arrivati quelli russi, adesso ci sono quelli della Arabia Saudita, ci sono quelli turchi e via discorrendo. Quindi un paese che continua ad essere depredato, ma che potrebbe oggi utilmente, con le sue classi dirigenti, andare avanti. E in qualche paese questo accade, tra mille difficoltà, perché il problema non è dare il pesce a chi sta morendo di fare, ma dargli la famosa canna da pesce, per pescare il pesce. E questa canna da pesca nessuno gliela vuol dare. Questo è il problema. Nel libro si parla di era digitale, naturalmente, quindi l'importanza anche della tecnologia, che sicuramente negli ultimi anni ha avuto un espluato enorme, rispetto a qualche tempo fa, ad esempio di prima del telefonino, che adesso ce l'hanno tutti. Vabbè, ma quello è il meno. Oramai noi siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, dei processori quantici, del metaverso, e non lo sappiamo. Cosa di questo, Carmen, rispetto a prima, può essere veramente d'aiuto all'informazione, non alla notizia? Cosa bisogna prendere di positivo dell'era digitale? Ma vedi, Steve Jobs diceva, non c'è una tecnologia buona o una tecnologia cattiva. La tecnologia sta nelle mani degli uomini. Dipende se queste mani sono le mani di uomini che vogliono cambiare il mondo, oppure lo vogliono soggiogare. E questo è il punto. Io, vedi, prima di scrivere questo libro, l'ho diretto all'università, un master sulle migrazioni, che ho voluto fare anche lì, perché volevo capire, approfondire, non si parla schiovere, è un romanzo, però bisogna conoscere i fatti. Io i fatti li ho lasciati, ma inevitabilmente ci sono ritornata. E anche sulla tecnologia c'è stato un periodo che io ero presidente di RaiNet, che era la società Rai preposta allo sviluppo digitale. E in quel periodo io naturalmente mi sono immersa in questo mondo, soprattutto, diciamo, non tanto nella nostra realtà che era rimasta indietro, quanto nelle realtà più avanzate, quindi nelle realtà americane, nelle realtà asiatiche, via discorrendo. E devo dire, ogni volta come un bambino rimanevo frastornata da questi cambiamenti continui, immediati, totali, e mi sentivo un'alfabeta. E come presidente di RaiNet io ho portato al Consiglio d'amministrazione della Rai e poi alla Presidenza del Consiglio Italiano, e in quel momento c'era Letta, e poi alla Confindustria Digitale e in tutte le sedi che erano proprie, un progetto per l'alfabetizzazione informatica, che ritengo assolutamente necessario, perché noi stiamo entrando con grande paura. In questo vedi anche nel libro c'è una sorta di, diciamo, insomma, speculare situazione tra queste persone che arrivano in un mondo che hanno visto attraverso le fotografie e i filmati ma che non conoscono, e noi che siamo oramai, non stiamo, siamo in un mondo che non conosciamo, e rispetto al quale non abbiamo chiavi e di cui non vogliamo essere sudditi, ma l'unico modo per non esserlo e sapere. Quindi le chiavi sono quelle, sono quelle per chiunque, sono quelle di in qualche modo alfabetizzarsi, avere la consapevolezza di che cosa stia capitando, avere la consapevolezza di dove si va, è logico che rispetto all'intelligenza artificiale si parla tanto di un codice etico, del fatto che comunque gli uomini devono continuare a decidere loro senza lasciare che siano le macchine e che creino altre macchine, ma già accade, non basta. Il problema è, come al solito, quello di essere consapevoli che se noi non fissiamo delle regole noi andremo a rotoli. Questo è il dato. E' questo che mi spaventa. Il fatto che gli uomini non riescano a mettere le regole, a mettere gli argini, i fiumi senza gli argini, stralipano. E' questo punto. Noi in questa realtà dobbiamo in qualche modo dotarci di regole, al di là dell'etica fondamentale che però quella o la coltivi o non c'è, dotarci di regole per non venire travolti da qualcosa che già oggi sta galoppando a ritmi incredibili, che ci trova disorientati, disarmati, incompetenti e che quindi poi ci renderà facile preda di qualsiasi percorso rispetto al quale non saremo più protagonisti. Questo e molto altro viene detto in vera naturalmente i schiavi del terzo millennio che vi ricordo questo è il titolo del libro di Carmela Sorella Marietti 1820 che è già nelle librerie dai primi di luglio uscito a fine di giugno il 30 di giugno. Le presentazioni, Carmen, ce ne sono alcune che possiamo ricordare? Sì, adesso per esempio ecco a proposito di tecnologia vado a Como dove ci sarà una sorta di cernobbio digitale dove il libro è un po' in secondo piano ma ci sarà pure vera e per chi voglio vedere da vicino ci saranno i grandi guru dell'informatica mondiale molti sono italiani che però sono dovuti andare all'estero è la solita vecchia trita storia qui la politica mette bocca nella scienza, nell'arte, nelle cose non si può andare avanti così per cui ci sono delle fortissime individualità che lì hanno trovato il sistema di sostegno fortissime individualità che qui non lo trovano quindi vado lì dopodiché ho un paio di presentazioni a Sutri in posto delizioso ce l'ho a Portenone ce l'ho al Festival della Sociologia di Narni poi sarò al Museo della Piaggio dove presenterò sempre libri con grande attenzione perché la mobilità non è solo quella della Vespa e poi ecco se lo vogliamo citare ci sarà questo appuntamento romano il 23 che è un appuntamento al Festival della Diplomazia io sono da anni in questo board essendomi occupata di politica internazionale per tanti anni e in questo caso ecco in questa presentazione entreremo molto al di là dell'aspetto del linguaggio che è fondamentale e io lo ribadisco è un romanzo non è un saggio quindi insomma la parola come scritta fa la differenza ma entreremo molto nel merito di queste ipotesi possibili dove per esempio la butto là ma poi lo svilupperemo un'altra volta perché c'è tutto questo perché si favorisce l'illegalità se ci fosse la legalità il business finirebbe non ci sarebbe certo certo allora altra domanda la prima l'abbiamo già fatta insomma sono due le domande che faccio agli autori quando vengono qui a presentare i loro libri uno è la presentazione della copertina l'altro è il rapporto con l'audiolibro io so che è un buon rapporto quello di Carmela Sorella con l'audiolibro questo libro ancora non è audio ma stiamo lavorando per ma in generale l'audiolibro lo ascolti è un supporto che ti piace o ti piace di meno o lo usi in alternativa al cartaceo la vede l'audiolibro è stato il papà dei podcast per cui diciamo chi ha problemi di vista ma non solo anche chi ha problemi di tempo che non ha tempo chi ha una vita così dove dove il piacere della lettura perché la lettura è un piacere guai se noi togliamo la lettura questa caratteristica la lettura è un piacere è un momento proprio fa bene all'anima è una cosa che ti ti come bevo l'acqua come mangio una cosa così devo leggere è uguale e allora l'audio è diventato oggi più che mai ecco proprio nel cambiamento anche dei mezzi c'è una rivalitazione dell'audio come c'è una rivalitazione dunque una rivalitazione della radio e dunque una crescita esponenziale del mondo dei podcast quindi per quanto mi riguarda io sono assolutamente non favorevole di più ne sono un entusiasta sostenitrice a me piace leggerlo un libro perché mi appoggio sulle pagine perché vado avanti vado indietro la tocco quella è una vecchia storia però sono una fruitrice di audio quindi questo audiolibro mi sono mossa perché dopo aver diciamo intanto promosso un po' questo libro che da un paio di mesi adesso devo assolutamente realizzare quest'audiolibro lo vorrei leggere direttamente non fosse altro perché è una creatura la conosco insomma l'ho accompagnata facciamo che ti puoi dire tutto tranne che tu non abbia la voce adatta Carmen per leggere un audiolibro e chissà chissà forse collaboreremo anche insieme chissà allora lasciamo con questa così questa suspense e questa speranza più che suspense a proposito c'è un termine ecco nel libro quello della utopia che è importante e ci tenevo a dire questa questa cosa anche perché giustamente dice a che cosa serve l'utopia serve a questo a non dover mai smettere di camminare quindi un po' perché c'è questa frase di Galeano che dice io cammino di dieci passi e l'orizzonte si sposta di dieci passi ne faccio trenta e non sono questi numeri non lo ricordo esattamente e l'orizzonte si sposta di trenta passi ma allora io non raggiungerò mai l'orizzonte e allora che ci faccio con l'utopia ci fai che ci cammini continui a camminare è il cammino dell'umanità che deve avere i suoi sogni senza sogni non andiamo lontano mi sembra un bellissimo messaggio voglio chiudere con questo grazie a Carmela Sorella per essere stata qui di persona tra l'altro ve lo dico perché insomma non è cosa comune adesso nel mondo che va sempre di fretta spesso anche le interviste si realizzano solo telefonicamente invece grazie dell'onore sono io che ringrazio a te di cuore e complimenti per questa conduttrice non è una captazio benevolenza ma c'è un foglio davanti con una serie di appunti che riguardano il libro quindi grazie grazie a Carmela Sorella mi raccomando in libreria vera e gli schiavi del terzo millennio Marietti 1820 Carmela Sorella è stata con noi